Il ministro Pavolini Dove è stato organizzato uno spettacolo per militari Al suo apparire dal palco centrale I 1500 militari che gremivano la platea Sono scattati in piedi acclamando Dopo il saluto al re e al duce Ha avuto inizio la prima visione della mostrè Dedicata con fraterna solidarietà Ai nostri soldati di terra, di mare e di cielo